Un sito internet per riscoprire le relazioni ma anche per trovare notizie piuttosto che per dare un nuovo slancio alla pastorale diocesana. E' stato presentato questa mattina in Curia il sito internet diocesano che risponde all'indirizzo www.diocesinocerasarno.org, uno strumento fortemente voluto, fortemente rilanciato dal Vescovo Giudice che servirà a mettere in relazione anche le parrocchie, le varie realtà della Chiesa dell'Agro, uno strumento che servirà a dare informazioni e comunicazioni anche ufficiali, per esempio tra i primi atti contenuti sulla home page del portale istituzionale c'è il messaggio d'avvento, un messaggio dal titolo attendere che sarà diffuso solamente attraverso il web. Può essere anche un modo di recuperare le relazioni perché oggi il problema della tecnologia che è ottima, bellissima, ma qualche volta ci chiude nelle relazioni umane, allora può essere l'occasione per riprendere queste relazioni. Una funzione quindi relazionale ma anche informativa e anche pastorale? Sicuramente, come ho detto nella presentazione, oggi la comunicazione è un aspetto dell'evangelizzazione perché l'evangelizzazione ha tanti canali, attraverso l'arte, attraverso il canto, la musica, ma queste nuove, queste vie di comunicazione che sono multimediali, sicuramente raggiungono il cuore dell'uomo contemporaneo e di quest'uomo europeo che è stato scritto è doppiamente orfano perché gli è stata tolta la storia del passato e quindi è orfano del passato. Gli è stato tolto anche il futuro perché parecchi parlano del futuro come un disastro o un disordine, una difficoltà e l'uomo di oggi tante volte è un po' smarrito. Allora recuperare il passato e sognare il futuro penso che sia anche compito pastorale della Chiesa.